Il segretario provinciale del Partito Democratico, Giuseppe Gallè, sembra non avere dubbi, noi invece sì. Quindi interrogarci oggi sulla bontà dell'azione che stiamo mettendo in campo dopo il congresso del 13 marzo sembrerebbe un esercizio che non ci aiuta ad affrontare il problema con la serietà e con la determinazione che il momento ci impone. Lo dicono Fabio Colorai e Giuseppe Ferrara, rispettivamente segretario e presidente del PD Gela 2016. Evidentemente, dicono, questioni che hanno riguardato e riguardano i destini della comunità giolese non sono comprensibili al segretario Giuseppe Gallè. La portata dei drammi umani, sociali ed ambientali sono sotto gli occhi di tutti, ma per Gallè stanno lontano, più di 80 chilometri. Noi continuiamo ad essere dell'idea che è sempre meglio pensare di emulare Rivera che di gol, per lo più frutto di genio e fantasia, ma in ogni caso regolari ne ha fatti parecchi, anziché assurgere al moggi della situazione, cui certi autogol, senza nemmeno scendere in campo, tanto male hanno fatto al calcio. Dall'arresto è più importante per Gallè arzigogolarsi ad interpretare gli aspetti burocratici e statuari e del PD, naturalmente ad uso e consumo di parte. Mentre Roma si discute, Sagunto cade. Sappiamo bene, continuano con Lorai Ferrara, che chi vuol innovare, costruire e cambiare disturba sempre qualcuno, suscitando, come è accaduto, scomposte quanto inutili reazioni mirate alla delegittimazione di quanti, invece, attorno a queste questioni, vogliono ritrovarsi per continuare questa battaglia, che è una battaglia di democrazia e di libertà. La nostra non è dunque una scelta ideologica, bensì una scelta a tutela delle comunità che vogliamo rappresentare e Gela, in questo momento, ha bisogno di un PD inclusivo, senza esclusioni, a partire dalla celebrazione dei congressi di tutto il PD e tutti legittimati. Per questa via allontaniamo da pensieri artificiosi, attribuzioni tendenziose, circa presunte dichiarazioni diffamatorie e calugnose, nei confronti di Peppe Di Cristina, a cui vogliamo bene e le cui doti politiche ed umane riconosciamo. Auspichiamo, chiude la nota, che la segretaria Guellè voglia prendere atto dei limiti manifestati sulle attenzioni riposte alla città e al partito di Gela e lasci ad altri giovani dirigenti, quelli liberi e incondizionati, ma impegnati a rifondare con la propria freschezza culturale, che un partito democratico diverso e una città diversamente bella e prosperosa è possibile. Grazie a tutti.